Che la trattativa tra lo Stato e la mafia non è una cosa che appartiene al passato, riguarda il nostro presente e riguarda il nostro presente per due motivi, perché un paese che non riesce a fare luce sulla sua storia recente e soprattutto non riesce, non riesce, non ha la forza di spiegare per quale motivo sono stati assassinati magistrati di prima linea, per quale motivo è stato assassinato per esempio il giudice Borsellino, per quale motivo la strage di Capaci, certo abbiamo avuto le indagini, abbiamo saputo quali erano gli esecutori, forse sappiamo qualcosa sui mandanti, ma quello che ancora manca è il contesto. Allora un paese che non riesce a fare luce sulle ragioni profonde di quello che è successo alcuni anni fa, non moltissimi anni fa, alcuni anni fa, è un paese che non ha rispetto di se stesso, non ha rispetto di se stesso, noi abbiamo rispetto di noi stessi. Cosa fanno infatti i magistrati? Guardano nel groviglio per capire come si è formato, con le complicità di chi, di quali forze esterne alla malavita. Cercano di dire l'indicibile, perché davvero non possiamo, non vogliamo continuare a usare questo aggettivo, indicibile. Lo ha adoperato Loris D'Ambrosio, il consigliere giuridico del Quirinale, nella lettera napolitano del 18 giugno 2012, chiedendosi se non fosse stato negli anni novanta un ingenuo e inutile scriva di cose utili a fungere da scudo per indicibili accordi. Siamo stanchi di parole che occultano i reati. Chi vuole che le cose restino indicibili per forza è attratto dal silenzio, parla per allusioni. Quando abbiamo appreso dei propositi di morte in Rina ci siamo posti alcuni interrogativi che a mio parere non hanno trovato sinora risposte plausibili. Il primo interrogativo nasce dal fatto che quelle minacce così violente, così reiterate, non sembrano avere una causale apparentemente adeguata. Mi spiego meglio. Le stragi del 92 e del 93 erano una reazione alla conferma nel gennaio del 1992 della sentenza di condanna del maxiprocesso da parte della Cassazione. Una vendetta dunque nei confronti dei politici che non avevano mantenuto le promesse di impunità, nei confronti di Falcone e Borsellino che erano gli artefici del maxiprocesso e, secondo una tesi accusatoria in corso di verifica sulla quale non entro nel merito, anche uno strumento per fare pressione sui vertici e lo Stato per indurle ad una trattativa. Ma una strage che dovesse essere compiuta ora e che dovrebbe colpire Nino Di Matteo o gli altri magistrati che indagano nell'ambito del cosiddetto processo della trattativa, che scopo avrebbe? Oveppure quel processo dovesse concludersi con sentenza di condanna? Si tratterebbe di pene detentive di pochi anni, assolutamente rilevanti per uno come Riina che è pieno di argastoli. Dunque perché fermare un processo che avrebbe conseguenze processuali pratiche insignificanti per Riina? Direi di più. un'eventuale strage avrebbe un effetto boomerang, un effetto controproducente perché cristallizzerebbe nell'immaginario collettivo di gran parte la pubblica opinione la certezza che la strage è stata compiuta per impedire l'accertamento dei fatti e dunque la certezza che la tesi accusatoria era fondata. Ma a me ha molto colpito, forse la cosa che più mi colpisce di questo processo è una cosa che non fa parte di questo processo ma è un filmato che voi trovate su youtube sulla deposizione del generale Mori nel 96-97 alla corte d'assise di Firenze che faceva il processo per le stragi del 93 e Mori fu costretto, trafelato a correre in quel processo perché Giovanni Brusca l'anno prima aveva rivelato il papello e la trattativa e quindi i carabinieri del ROS dovettero ammettere di averla fatta. E Mori quando la spiegava, a parte alcune contraddizioni anche diciamo molto comiche, Mori sosteneva che lui ha fatto la trattativa con i capi mafia tramite Vito Ciancimino per farsi aiutare dai capi mafia ad arrestare i capi mafia e sosteneva che appunto dopo la strage di Capaci lo Stato era in ginocchio, non riusciva a fare nulla dal punto di vista investigativo e allora lui andò a parlare con Vito Ciancimino e gli propose, gli fece la classica proposta che non si può rifiutare. Lei dica a Provenzano Rini e gli altri di consegnarsi dopo 30-40 anni di latitanza allo Stato che io ho descritto come uno Stato in ginocchio, no? Io Mori e noi in cambio tratteremo bene i loro familiari. Pensate che offertona che era andato a fare il generale Mori, cioè praticamente i latitanti da 30-40 anni avrebbero dovuto consegnarsi in cambio del buon trattamento delle loro famiglie anziché dire allo Stato veniteci a prendere se per caso ci trovate e naturalmente sono baggianate che vengono dette in un processo ma da uno che non è stato un passante, è stato il comandante del ROS e poi è stato il capo dei servizi segreti perché il talento va premiato e l'impegno anche soprattutto. Ma disse anche un'altra cosa che voi trovate perché ci sono proprio le riprese di quella testimonianza e che ci aiuta, quella ripresa, a capire perché le parole che usiamo per quanto precise si rivelano sempre imprecise. Mori dice testualmente dopo l'inizio delle stragi io dissi a Ciancimino ma che cos'è questo muro contro muro? Da una parte c'è la mafia, dall'altra c'è lo Stato ma non si può parlare con questi signori. Adesso l'idea che un carabiniere si meravigli del muro contro muro fra lo Stato e la mafia e appena nota un minimo di contrapposizione, non essendoci abituato, vada dai mafiosi a dire ma non si può vedere di ripristinare le larghe intese che durano da 40, 50, 100, 200 anni. Ma guardate che questo lo dice uno per discolparsi, lo dice uno per dire che ha fatto il bene dello Stato. L'attenzione di tanti cittadini, semplici cittadini, giovani in gran parte ma non solo giovani è importante. Sicuramente per me, per tutti noi è costituito un momento importante di sostegno e di conforto. È più importante anche di qualche silenzio istituzionale, più importante delle tante difficoltà che vengono da anni frapposte alle nostre indagini, tutte quelle che riguardano la trattativa e comunque mirano a ricostruire ciò che veramente successe negli anni tra il 92 e il 94, gli anni delle stragi. Sono momenti importanti. Sentire che i cittadini seguono il nostro lavoro ci riporta a quella che è l'essenza più vera del nostro lavoro, cioè il servizio nei confronti della collettività. La collettività deve pretendere che i magistrati facciano di tutto con vera indipendenza e autonomia per accertare la verità. Senza verità non c'è vera democrazia. Come dicevo prima, noi stiamo facendo e faremo fino in fondo, come ha detto Roberto, costi quel che costi questo processo, ma faremo soltanto un processo che finirà con una sentenza. E noi ci auguriamo che quella sentenza indichi un punto di verità, che non necessariamente sarà l'unica verità e che non necessariamente questo percorso del processo potrà essere l'unico percorso per accertare una verità. Ce ne sono altri e questi percorsi li stanno percorrendo e li percorrono giornalisti come quelli che abbiamo sentito, scrittori, studiosi, intellettuali. Ecco, cerchiamo, cercate tutti la verità a prescindere dai processi e non crediate mai che l'unico modo per accertare una verità di un fatto sia quello del processo penale.